Ma siamo amici te qui stiamo? No, no, aspetta, va bene, va bene, è onesto perché ho preso gli occhi, no, gradati, occultati! Dammi la mano destra, allora, vieni con me, eccolo! Ciclo, ciclo! Non riuscire a andare, per favore! Ehi, non riuscire a andare! Ehi, devi dire, senti tu! Devi dire, senti tu! Però se indovini pure di dire, eh, record! Non andare giù, soli il naso! Sacriata, su, tavole! Che ci stanno lì, mazzurro! Non è francesco! Non salire! Potrebbe, teniamo tutto il interrogativo! Silenzio! No, non è francesco! No, non è francesco! No, non è francesco! Basta la tesi, Silenzio! Per favore, silenzio! Ma non ci vuol farlo! Silenzio, Silenzio! Potrei, sono già due! Vedi questo! E questo! Sei sicuro? Sicura? Aspetta! Ma te ne hai detto già tre, Benda, eh! Beh, sì! Però se niente c'è la saffatata, diciamo! La saffatata? No, questa no! No, questa no! Ehi, ehi! Credo che eravamo le quattro, qua, che indecito! Ce l'ho un mezzo, qua, no? Un mezzo! Quattro! La sottotitata! Ehi! 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 Se la sottotitata, Daniele di bagnole! Ehi! Questo è il Luiz, questo ci viene, secondo te lo abbiamo messo in modo! Può essere! Può essere! No! 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 Allora vanno a decidere, con silenzio tra tutti, qual'è un pochettino che si dure i primi o di quattro cosa vengono? Di la forza, no? Rieto così. Qual'era l'altro? Questo? Oppuramente questo? Dimmi tu. Fammi toccare anche quello di prima, ma questo. Vuoi tocchi prima di chiedo? Questo, ecco. No, questo no. Questo no. Sicura? Che lo devi baciare? Sicura? Sicura? Dai bacialo. Noooo. Che cittaduncio. Il flubo di da Gunzani sta nuvolta. Lascia un negocio. Che cosa ti dà augolala? Un bello. Che cosa ti dà? Che cosa ti dà? Che cosa ti dà? Che cosa ti dà? E io... no... che cosa ti dà?